Anche quest'anno abbiamo marchiato la prima parte di Betelmann, noi scelgiamo l'Alpecastel in Val Formazza a 2500 metri. Quest'anno è stata una delle migliori stagioni degli ultimi anni perché si è pertenuto una temperatura costante, non troppo acqua, non troppo poco, poche giornate di vento. Abbiamo perso gli ultimi 10-15 giorni dal peggio perché è arrivata un'improvviso nevicata al cambio di temperatura e ha fatto 3 giorni con la neve, ci siamo dovuti abbassare e poi alla fine siamo dovuti scendere a casa e abbiamo perso 15 giorni dal peggio. Però tutto sommato è stata una buona stagione. Ma quanto producete in un anno? La produzione varia in base alla stagionalità che hai e dipende da quanti animali più o meno si alpeggiano. Diciamo che ormai la media siamo su tutti i sette gli alpeggi di 4.000-5.000 forme all'anno. Di quante chili ogni forma? La media siamo sui 5 chili per forma. Va bene, grazie. Poi sentiamo il tecnico. Poi sentiamo il tecnico. Grazie a tutti